La Nato prima minaccia alla pace globale, Russia e Cina prendono a schiaffi il G7 di Biden e Draghi, sapete tutti gli scontri tra il Cremlino e anche il primo ministro, presidente del Consiglio Italiano per quanto riguarda la partecipazione di persona, di Putin, al G20, Draghi che si crede il padrone evidentemente della sfera internazionale geopolitica, della scena internazionale. E beh, la prima frase di questo titolo potrebbe essere detta da un capo politico della Cina o della Russia o dell'Iran o dell'India o del Brasile eccetera eccetera. Quindi di tutto quel mondo multipolare, sistema economico soprattutto multipolare mondiale che si sta formando alternativo quindi all'Occidente a guida americana. Invece no, è detta come frase molto forte da chi? Da un europarlamentare dell'Alependi, Rassemblement National francese. E dunque andiamo a vedere poi qual è il nome di questo politico. Un politico che potrebbe essere definito, e so che qualcuno scriverà nei commenti, soprattutto i più atlantisti ucranisti, un venduto alle autocrazie, alle dittature Cina e Russia. E molti altri invece, perché conosco il mio pubblico, saranno d'accordo con queste frasi, con questa intervista rilasciata all'agenzia stampa russa TASS. La Nato, dice il politico francese di destra, è la più grande minaccia alla pace globale. L'Unione Europea sta trascinando l'Unione Europea, i paesi, 27 paesi dell'Unione Europea, verso un confronto diretto, una guerra diretta contro la Russia e la Cina. E sta distruggendo la stessa alleanza che, tutt'altro che difensiva militare nord-atlantica, quella zona cuscinetto, puffer zona, che stava ai confini, fino a pochi anni fa, dopo la disgradazione dell'Unione Sovietica, tra Europa e Federazione Russa. E invece la Nato, di mantenere la neutralità di nazioni come l'Ucraina e come altre nazioni, come gli Stati Baltici, sta trasformando in nazioni schierate politicamente e militarmente contro la Russia. Ebbè, la Nato, una volta è stata definita dal Presidente della Repubblica Francese, ma con un'organizzazione morta a livello di cervello, a livello mentale, cioè un inutile carrozzone, morto, sepolto. Invece si sta dimostrando, trasformando sempre più in una struttura di potere globale a guida americana. A dirlo è Hervé Juvin, spero di pronunciarlo bene, ho studiato solo tre anni francese alle scuole medie. È il membro, perché è importante la sua opinione, perché è membro non solo europarlamentare, fin qui ci sta, ma anche membro della cosiddetta sede, cioè di quella sottocommissione europarlamentare alla difesa e alla sicurezza, quindi una persona ad alto livello, che ricopre un ruolo ad alto livello, proprio in Unione Europea, proprio nella questione difesa e quindi anche Nato indirettamente. È a dirlo proprio prima, nelle ore del vertice a Madrid della Nato, in cui si deciderà la strategia futura dell'alleanza. Ebbè, la Nato non è altro che una specie di posto pre-Unione Europea per gli Stati, per registrarsi alla candidatura ad entrare nell'Unione Europea, secondo lui. La Nato ha accerchiato la Russia e si sta preparando ad accerchiare anche nel Pacifico, soprattutto, la Cina. E l'Unione Europea si inginocchia di fronte alla Nato, di fronte ai volori di chi comanda la Nato, cioè degli Stati Uniti, di Washington, dell'America, di Biden, che vuole tutt'altro rispetto agli interessi legittimi dei popoli europei, cioè gli interessi del mondo anglo-sassone, anglo-americano, della sfera anglo-americana, che ha interessi legittimi diversi da quelli dei popoli europei, almeno continentali, quindi più a sud, sud-est. La diplomazia americana è nelle mani non solo dei DEM, ma anche dei neoconservatori americani, che nella maniera biblica cercano di distinguere in maniera abbastanza criminale, secondo l'europarlamentare francese, tra persone buone e persone cattive, tra lato giusto e lato sbagliato della storia. Ci ricorda molto dell'atteggiamento terribile nei confronti di presidenti conservatori, come Orban Victor, l'Ungheria di Orban Victor. Hirodo Pontu, quindi articolo della televisione pubblica, del medium pubblico ungherese. L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha pubblicato delle foto satellitari con tanto di coordinate del Pentagono e di altri punti di comando dell'Occidente, cosiddetto libero-democratico. Proprio nelle ore del vertice di Madrid e nelle ore subito dopo a quelle del G7. Nelle foto ci sono anche il Ministero della Difesa britannico, il Pentagono, la Casa Bianca, il Reichstag di Berlino e l'Eliseo di Parigi. Dimitri Rogosin, che noi conosciamo su questo canale, cioè il direttore di Roscosmos, a Riano Vosti, che cosa ha detto? Che la Nato, i vertici della Nato hanno dato delle coordinate, dei dati, delle foto satellitari di che cosa? Di materiale molto utile agli attacchi, soprattutto nella regione di Rostov, quindi in Russia, agli ucraini, all'esercito ucraino. Quindi accusa l'America di avere le mani nella marmellata proprio negli attacchi con i droni ad una raffineria di petrolio proprio in territorio russo colpita qualche giorno fa. Cosa molto molto delicata. Lo scenario non è dei migliori e quindi quando si parla di Terza Guerra Mondiale se ne parla come il rischio e non è una chiacchiera da bar perché anche in personaggi importanti della politica russa come Medvedev ne parlano, la citano continuamente. Metro, già il logo, giornale e tabloid inglese, l'arcobaleno per il mese del Pride e dell'orgoglio, già questo dice tutto sull'Occidente, dell'Ovest europeo non tutto l'Occidente. La Russia con la sua squadra di hacker, Killnet ha hackerato, è entrata nelle pagine Sistemi Informatici Pubblici e Privati della Lituania come ritorsione per la questione del blocco delle sanzioni europee antirusse al traffico ferroviario di Kaliningrad, l'esclave russa sul Baltico, un gruppo che è contro storicamente anche gli hacker di Anonymous. Se volete sostenere questo tipo di informazione libera potete farlo attraverso i tre metodi indicati in descrizione. E poi c'è tutta la questione di Lian Zhao, cioè il Ministero degli Esteri Cinese, quindi la Cina che si schiera indirettamente ma sempre più direttamente con a fianco dei BRICS e della Russia, soprattutto di Putin. Lui che cosa pubblica su Twitter? Una foto con i BRICS sotto il G7. G7, popolazione 777 milioni di abitanti, i BRICS, quindi Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, 3,2 miliardi. E dice una cosa, quindi la prossima volta che parlano di società internazionale, cioè comunità internazionale, sapete cosa intendono? Intendono l'Occidente decadente. L'Iran vuole entrare nei BRICS, così come l'Argentina, secondo la Russia, a riferirlo anche Reuters. Biden intanto, quindi dall'altro lato della nuova cortina di ferro mondiale geopolitica, i piani di Putin non sono andati in porto, secondo il Presidente americano. La Nato e il G7 non sono stati divisi dall'attacco e dall'aggressione russa. E l'Occidente tutto democratico che difende i diritti umani, secondo Biden, verrà fuori rafforzato dal conflitto ucraino. Lo stesso Biden che continua a fare le solite gaffe, c'è anche il video, potete trovarlo tranquillamente in rete, anche tradotto in italiano, e ha parlato della Nato che è minacciata dalle sue stesse posizioni. Avete capito bene? Un gioco di parole, una capacità oratoria di chi probabilmente è affetto da problemi di demenza senile. Non lo dico per ridere, né per accusare una persona che a quell'età deve essere difesa, ma non deve ricoprire un ruolo simile di importanza mondiale. Mondiner, Johnson, quindi parliamo dell'Inghilterra, del Regno Unito. Se Putin fosse donna, vi giuro, questa è una frase che non ho capito. Ho capito sì, nel senso che l'aggressività, l'arroganza è virilità, è la tossica mascolinità secondo quel pensiero che non posso definire della nuova sinistra, non posso definire neomarxista se no sono ignorante. Beh, se Putin fosse donna non sarebbe successo quello che è successo in Ucraina. Intanto la Turchia toglie il veto per l'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato. Chissà cosa ha promesso la Nato e quindi l'Occidente democratico alla Turchia di Erdogan nel silenzio della stampa internazionale. Non ho letto che cosa, quali siano state le promesse per quanto riguarda il Kurdistan e tutta quella questione dei terroristi barra antagonisti rispetto al governo e alla presidenza turca. Grazie di aver visto questo segmento al prossimo tra Italia e Modena Orsaga.